Un autovelox nel punto della strada regionale 71 dove un anno fa ha perso la vita Federica Canneti a soli 22 anni. Federica viaggiava in auto con altri quattro amici in direzione Arezzo, all'altezza di Vitiano, il fuoristrada. L'auto su cui si trovava Federica, alla cui guida c'era un 23enne, viaggiava alla velocità di oltre 130 km orari. È stata la Polizia Municipale, per voce del proprio comandante Aldo Poponcini, a presentare richiesta alla Prefettura per l'installazione dell'autovelox. Il prefetto di Arezzo, nelle scorse ore, ha firmato la delibera che individua la postazione e dà il nulla osta alle procedure di carattere pratico. Al di là di tutti quelli che sono i presupposti per poter installare un autovelox, che quindi sono stati valutati da un'apposita commissione, ha anche un forte significato simbolico perché purtroppo c'è stato un gravissimo incidente proprio nel punto in cui sarà installato l'autovelox. Quello è un tratto di centro abitato, 50 km orari? Sì, 50 km orari. È un tratto nell'abitato, però su una strada che conosciamo, la 71, dove la maggior parte degli incidenti che si sono verificati sono stati causa ovviamente dell'eccesso di velocità e della distrazione. L'autovelox deve essere visto in questo senso come un ricordo del fatto che non bisogna superare i limiti di velocità e avere sempre comportamenti prudenti alla guida perché purtroppo non ci sono strade pericolose, lo dico sempre, ma comportamenti imprudenti.